Pistoia è tra le dieci città italiane con l'assicurazione auto più cara. È il risultato del report portato avanti dall'Ivas, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Un rincaro che nel panorama nazionale ha fatto segnare il 6,5% in più a febbraio 2024 rispetto all'anno precedente, con il prezzo medio che è arrivato a circa 395 euro. Insieme a Pistoia sono molte le città toscane che rientrano in questa lista, tra cui Firenze, Massacarrara, Lucca, Pisa e Prato. Questa in particolare è la seconda più cara nel panorama nazionale. Le compagnie chiaramente quando diciamo tecnicamente elaborano una tariffa si basano sempre su degli indici sezionati e frazionati territorialmente su tutto il territorio nazionale e quindi da una zona a un'altra possono modificarsi le tariffazioni per quanto riguarda il comparto resciato. I fattori che maggiormente influenzano questa discriminazione anche di premi fra un territorio e un altro possono essere dovuti tendenzialmente a due fattori. Uno è quello della frequenza dei sinistri, l'altro quello del costo meglio dei sinistri in quel territorio. Quello che determina l'aumento dell'RC auto è dovuto principalmente al fatto che i costi di ripristino dei veicoli incidentati sono molto cresciuti negli ultimi anni in conseguenza della maggior dotazione tecnologica che le macchine hanno. C'è da dire che purtroppo ci sono stati anche dei fattori che hanno influenzato non poco le tariffe nell'arco dell'anno per i rinnovi anche causati da quelli che sono stati un po' eventi esterni, eventi naturali che abbiamo registrato a novembre dello scorso anno nella nostra provincia che ha comportato dei costi non indifferenti, tanto è vero che nella garanzia legata agli eventi naturali ci sono stati aumenti adeguamenti su quelli che erano i tassi di riferimento. Se mi posso permettere di dare un consiglio agli utenti è quello di scegliere le compagnie non solo ed esclusivamente in base al parametro del costo ma anche in base alla prontezza, alla rapidità e all'efficienza nella gestione della liquidazione del sinistro perché il vero costo in molte situazioni è dato dal fermo che il veicolo subisce nella fase del sinistro.